Persa palla però il disimpegno di Bonera è sbagliato così come quello di Conte, Pirlo, scivolata Zambrotta, si prosegue per il vantaggio, Pirlo in profondità per Baggio, posizione regolare, Baggio attenzione, punto vuoto, Baggio, rete, e Roberto Baggio fa mutolire il Delle Alpi, uno a uno. La tradizione che dicevo che Baggio non ha mai perso con le proprie ex squadre, fino a questo momento si è verificato perché ha pareggiato una partita che sembrava quasi compromessa per il Brescia, invece uno a uno, adesso i problemi sono sensato della Juventus. Delle Alpi ha mutolito, la gente quasi non ci crede, si sente l'esultanza dei tifosi del Brescia, uno a uno, e questo attenzione signori potrebbe essere un momento importantissimo per questo campionato. Guardate Baggio come controlla al volo a seguire, a parte il fatto che è un gran gol, ma poi è un gol dai mille significati, primo perché segnato da Roberto Baggio, che va così a quota 163 gol nella sua carriera.